allora benvenute tutti e tutte a questo incontro sulla filosofia postumanista con il grande filosofo della filosofia postumana in italia roberto marchesini grazie roberto per essere qua in why you con noi grazie a te grazie a tutti voi un grande onore allora con roberto oggi parliamo di un libro molto bello che si chiama epifania animale l'oltreuomo come rivelazione pubblicato da mimesis nella collana postumani tra l'altro salutiamo pier della vigna grande editore italiano di mimesis appunto con questa collana postumani e roberto io vorrei iniziare con te una riflessione sulla zoo antropologia in particolare anche riferendomi alla al concetto al passaggio diciamo dagli animal studies agli studi postumani certo diciamo che il mio l'inizio è stato un po nel vedere come l'essere umano avesse banalizzato la presenza degli animali nella vita quotidiana cioè aveva un atteggiamento c'è stato per molto tempo un atteggiamento pietistico se vogliamo protezionistico o anche di rivendicazione dei diritti degli animali pensiamo a tutto il lavoro di peter single tom reagan e altri ma non si è riflettuto sufficientemente a mio avviso sul fatto che l'essere umano in un certo senso riteneva gli animali inferiori o non li considerava come importanti punti di riferimento nella propria storia quindi diciamo che è iniziato con una valutazione antropologica di come gli animali avevano cambiato la vita dell'uomo l'avevano cambiata da un punto di vista proprio culturale cioè non all'animale presente nel retaggio filogenetico insomma il mister hide di vecchia tradizione ma come l'animale invece avesse ispirato la tecnica la moda la musica la danza quindi la ziontropologia era per me il modo per cercare di capire di comprendere come gli animali diciamo le altre specie avessero dato all'essere umano delle ispirazioni delle appunto delle epifanie cioè delle rivelazioni e questo per me era molto importante perché significava non considerare più l'essere umano come autoriferito e quindi come autosufficiente autarchico separato e disgiunto dal mondo se l'essere umano ha costruito diciamo la dimensione culturale attraverso la relazione con gli animali ecco che l'essere umano era un'entità ibrida non poteva considerarsi un'entità pura separata disgiunta ecco quindi l'ibridazione era l'aspetto fondamentale della nostra esistenza infatti noi di l'ibridazione parleremo proprio in un altro di questi incontri proprio focalizzato sull'ibridazione grazie per portare l'attenzione su questa tematica molto importante io vorrei chiederti di riflettere un po' di più con noi su questo affascinante concetto che tu colleghi l'epifania che magari nell'immaginario comune arriva da un background religioso al concetto di animale allora se se non ti spiace entrare un pochino più nel particolare di questa unione molto particolare anche molto originale del concetto di epifania animale cosa significa esattamente guarda negli animal studies tradizionalmente si vede l'essere umano che incontra l'alterità animale ma rimangono in un certo senso impermeabili l'un l'altro cioè come due entità che interagiscono si relazionano dialogano ma che profondamente non si cambiano dal mio punto di vista l'animale viene visto come fenomeno in questi studi cioè come qualcosa che rimane esterno un altro da sé un altro che quindi non entra dentro di me ma che rimane assolutamente fuori e rimane sul piano fenomenico cioè su quello che appare dal mio punto di vista invece l'essere umano quando incontra l'alterità animale in un certo senso non vede più un fenomeno ma vede se stesso nell'animale per tanti aspetti anche legati a quello che è l'essere umano vale a dire la capacità immaginativa la capacità empatica dell'essere umano quindi vedere il volo degli uccelli significa per l'essere umano sognare di volare sentirsi volare quindi è come se il volo degli uccelli fosse un'annunciazione un'epifania cioè una rivelazione di qualcosa è come se in quel momento attraverso la relazione all'essere umano venisse rivelato che si può volare che su questo mondo si può volare esiste anche questa dimensione e questa dimensione dell'essere umano sognando e proiettandosi negli uccelli e la vive col proprio corpo in un certo senso la somatizza ne prova lebbrezza la sente dentro di sé ecco a questo punto e da questo momento in poi che c'è l'ideazione del volo quindi l'ideazione del volo non è un parto come dire creativo solipsistico ma è un parto di una creatività dialogica di una creatività dove meno male tutti incontri con l'altro e da questo incontro esce fuori l'ideazione quindi il mettere in discussione questa idea autarchica di un essere umano fondato io questa propria principia su se stesso dove la cultura viene considerata un'emanazione ecco dal mio punto di vista la cultura invece è proprio il frutto del dialogo e in questo senso c'è una trasformazione anche da un punto di vista antropologico io ho messo in discussione il concetto di incompletezza umana cioè l'essere umano non la cultura non è la stampella di una incompletezza naturale dell'essere umano ma è proprio la ridondanza dell'essere umano questa sua tendenza a proiettarsi nell'alterità che crea questo bisogno questo desiderio di vivere altre dimensioni di quindi è una creatività non è mai una compensazione la cultura non compensa la cultura è come un innamoramento cioè è un incontro ed è solo a posteriori dell'innamoramento che sentiamo la mancanza dell'altro e questo per me è stato molto importante perché ha fatto sì che io iniziassi a leggere la tecnologia e la costruzione della tecnologia la tecnopoiesi in un modo totalmente differente rispetto a quello che è la tradizione umanistica che la vede come al solito nella visione prometeica dell'essere umano incompleto biologicamente che si completa attraverso la cultura che quindi diventa in un certo senso la sua stampella la sua altra dimensione viceversa nel mio prospetto la cultura è assolutamente un progetto emergenziale che emerge che quindi non va a compensare non può essere costruita su un calco di manchevolezza dell'essere umano fantastico tanti riflessioni e domande su queste cose molto belle che detto la prima domanda e quindi tu vedi l'animale come un potenziale diciamo in questo senso vorrei appunto sottolineare che il sottotitolo del libro di roberto è l'oltre uomo come rivelazione quindi ti vorrei chiedere un po' di più in questa connessione alla riflessione niciana e quindi appunto dell'essere umano come continuo potenziamento come continuo potenziale appunto le metamorfosi dello spirito no essere cammelli che diventano leoni che poi diventano il bambino la bambina gli occhi aperti sul mondo che può essere tutto la vita come un'opera d'arte quindi ti vorrei chiedere la tua lettura di nice in questa ottica specifica epifanica dell'animale tendenzialmente direi che nice ha visto giusto quando ha parlato di un di un essere umano che va sempre oltre se stesso che quindi cammina in una condizione di costante non equilibrio il mio dubbio la mia riflessione è che nicesti ancora all'interno di una cornice umanistica che vede il brutto e l'angelo e l'essere umano in una forma intermedia e quindi ancora questa visione dell'oltre uomo come verticalizzazione che lo troviamo anche in slaughter dick no c'è questa idea di verticalizzare la mia idea invece è l'oltre uomo come processo di orizzontalizzazione quindi come dispersione più diciamo una visione dionisiaca di mutamento di trasformazione continua dell'essere umano ma non in senso gerarchicamente superiore o inferiore ma semplicemente come una continua metamorfosi che dà l'essere umano la possibilità di guardare il mondo secondo prospettive differenti assolutamente per chi magari interessato alla filosofia ma non ha degli studi filosofici alla base e passiamo parlando di fridic nice e così parlo zaratustra e io sono perfettamente d'accordo di c'è uno grande riferimento degli studi però effettivamente l'oltre uomo niciano è verticalizzato tanto che nice e dice che noi appunto siamo come un ponte però poi prende l'esempio della scimmia e dice l'oltre uomo guarderà l'uomo come noi oggi guardiamo alla scimmia con un riso no quindi l'idea appunto di essere l'oltre uomo superiore all'uomo e l'uomo superiore alla scimmia quindi anch'io su questa cosa sono molto critica è una visione comunque verticale molto punto tu parli di orizzontali e forse magari rendo mia deluso parlare anche del rizoma magari senza una struttura verticale orizzontale ma aperta sì è una struttura sicuramente aperta io ho usato l'orizzontalizzazione proprio per cercare di sottolineare il fatto che in questo continuo andare oltre se stessi non si ci si potenzia non si diventa superiori ma semplicemente si provano altre dimensioni esistenziali e c'è anche un aspetto secondo me fondamentale che come nell'innamoramento questo prospetto questa proiezione nell'altro più che un potenziamento è un depotenziamento cioè nel senso che crea un maggiore bisogno dell'altro cioè mentre il soggetto che all'interno di se stesso è in un certo senso una sorta di monade quindi autosufficiente il soggetto che va oltre se stesso diventa sempre più bisognoso dell'altro e lo vediamo benissimo nella tecnologia cioè la tecnologia non ci rende sempre più emancipati la tecnologia ci si rende sempre più dipendenti ma questo non penso che sia qualcosa di negativo cioè la dipendenza del prospetto culturale non va vista come qualcosa di negativo ancora una volta lo vediamo una cosa di negativo se abbiamo una visione umanista che mette la concezione di emancipazione dell'uomo misura di se stesso e sussunzione del mondo come un'entità che auto si si auto contiene e allora ogni dipendenza viene letta in maniera assolutamente negativa quindi pensiamo un emancipazione come a qualcosa che ci renda indipendenti invece dobbiamo guardare l'emancipazione come qualcosa che ci rende maggiormente dipendenti maggiormente relazionali maggiormente coniugati al mondo ma questa correlazione è l'aspetto principale della 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 costruzione esistenziale cioè l'esistenza nasce attraverso una continua correlazione al mondo una continua partecipazione ecco quindi non vedo qualcosa di negativo nella dipendenza io su questo capisco vuoi dire sono d'accordo in parte diciamo che forse una dipendenza centralizzate centralizzante problematica cioè se io non vivo senza tecnologia se io non vivo senza l'altro in questa ricerca del se fuori dal se io vedo un problema nel senso appunto per esempio la sud corea c'è un problema anche l'america un problema anche in italia un problema forte di legata alla dipendenza da internet e quindi io capisco il tuo discorso della dipendenza come una relazione diciamo che forse il problema è quando questa dipendenza diventa così centralizzata che mi dimentico che del resto no che appunto come che c'è solo una cosa rispetto alla molteplicità al caos della vita no alle altre relazioni questa relazione diventa unica e mi cancella le altre relazioni certamente se la dipendenza è un monopolio di qualcosa è assolutamente qualcosa di è una diminuzione di dipendenza cioè in realtà quello che noi stiamo osservando in molti casi è una diminuzione di dipendenza erano molto più dipendenti che ne so in certe società rurali dove dipendevano da tanti aspetti della vita quotidiana la stagionalità rispetto ai ritmi della natura le caratteristiche del locali autoctone quindi il punto fondamentale secondo me il problema non è la dipendenza il monopolio e questo monopolio è una diminuzione di dipendenza ma ogni essere vivente è portato a costruire relazioni e a essere una soglia sostanzialmente è solo una casa con una porta aperta dove costantemente hai ospiti e dove costantemente tu sei in un certo senso anche ospite perché ospitare qualcuno significa anche diventare poi ospite di quel qualcuno come avevano capito perfettamente i latini no il concetto di ospes è un concetto duplice non è mai un concetto singolo e secondo me il punto fondamentale quello che ho potuto constatare nella società che l'antropocentrismo diventava una ricerca di senso sul sé cioè superando la concezione teocentrica nella visione antropocentrica la tua vita era in qualche modo tutta concepita su se stesso ma concepire la propria esistenza su se stessi è assolutamente qualcosa di terribile nel senso che poi il conto della caducità della vita ci fa comprendere che qualunque investimento su se stessi è una una perdita di senso cioè cadi in una sorta di nichilismo inevitabile al contrario nel momento in cui tu comprendi che il senso della tua esistenza la relazione col mondo con gli altri e senti gli altri dentro di te io lo dico molto spesso io sento il mio padre dentro di me senti i miei amici sento gli animali che sono vissuti con me anche per dieci anni e che mi hanno regalato dei giorni magnifici e poi sono morti ma sono ancora vivi dentro di me nella relazione non c'è morte c'è una continua trasformazione secondo me nel momento in cui uno abbandona una visione teocentrica l'antropocentrismo è qualcosa di angosciante sì sono perfettamente d'accordo diciamo che forse il se può anche essere visto come alterità io a volte appunto riflettere su chi siamo no e pensare per esempio a tutti i batteri che vivono nei nostri intestini che ci permettono di essere in salute perché abbiamo bisogno di questi batteri per poter vivere e quindi in realtà il se è già alterità cioè noi siamo già molti oppure un'altra idea chi sono io rispetto a chi ero cinque anni fa o dieci anni fa o venti anni fa c'è una continuità ma c'è una differenza quindi il se anche potrebbe essere visto come un ente aperto anche se nella visione appunto antropocentrista che supera il teocentrismo però che di nuovo mette una un'entità unica un'entità centralizzata al centro del discorso metto un centro metto un centro in realtà il corpo non 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 finisce in questo organismo questo organismo è in realtà una foresta un ecosistema la stragrande maggioranza delle cellule presenti in questo corpo non hanno il mio genoma quindi sono degli ospiti io vivo negli altri l'embody ma la somatizzazione del mondo fa sì che io sento il mio corpo non solo nel mio organismo ma anche nei libri che leggo e anche nelle piante che curo negli animali con cui vivi nelle relazioni nella tecnologia quindi il punto secondo me fondamentale è concepire un se come centro come entità impermeabile come entità pura ecco secondo me la relazione con gli animali ci fa comprendere quanto in realtà dobbiamo alla relazione quanto abbiamo costruito quello che siamo attraverso la relazione io rimango sempre stupito quando riguardo i rituali di corteggiamento di alcuni uccelli e parallelamente vedo le danze dei popoli tribali che vivono accanto a questi e si vede come lì c'è stata una forte come dire ibridazione no è la stessa identica cosa se pensiamo allo sciamanesimo se pensiamo al vestire se pensiamo al canto al make up alla moda tutto questo è nato perché l'uomo ha cercato costantemente di andare oltre se stesso ed è rimasto affascinato dal mondo degli animali e ha costruito attraverso questa relazione nuove dimensioni esistenziali e allora per tornare al nostro discorso iniziale penso che l'errore più grande sia la banalizzazione cioè non rendersi conto di quanto è importante la relazione con la natura la relazione con gli altri l'essere in relazione e il grosso rischio è questa sorta di bulimia ontologica per cui io esisto solo se faccio tante esperienze se mi riempio di oggetti se sono super presente quando invece io esisto soprattutto nel dono soprattutto nella donazione noi esistiamo perché nella donazione noi viviamo negli altri e gli altri ci portano nella loro vita e è questo che dico tutto ciò che noi doniamo è un rafforzamento del nostro essere quindi è il ribaltamento sostanziale la zona antropologia vuole studiare una vuole essere un'antropologia della relazione la relazione con gli animali anche la relazione con le piante ecco la relazione col mondo in generale un'antropologia quindi che non pretenda di studiare l'uomo attraverso una ricognizione esclusiva sull'uomo trasformando tutto il resto in bene di consumo o strumento per operare questo è perfetto per entrare nella nostra seconda tematica che proprio l'ibridazione e la relazione tra specie allora roberto grazie mille di questa fantastica conversazione sulla zoo antropologia e ci ritroviamo nel prossimo video a parlare di ibridazione grazie roberto grazie a tutti